... Tony Tamaro alla Eccellenza del Sud, premio Terronian. Tony, tu hai sdoganato l'essere terrone. Che cosa senti questa sera che hai ricevuto anche questo premio che ti consagra, terrone? All'inizio della mia carriera noi avevamo un po' di vergogna a definirci del Sud, terrone, c'era questa supremacia del Nord. Invece oggi no, oggi lo diciamo con orgoglio, ma io lo facevo da tanto tempo. Mi piace che questa cosa sia sdoganata la parola terrone. Siamo orgogliosi di essere terrone. Ma ti sei mai sentito chiamato terrone in senso negativo da qualcuno, girando per l'Italia ormai da tanti anni? No, ti devo dire la verità, io ho cantato a Milano, ho cantato a Bologna, ho cantato in tutta... Però nessuno mi ha mai chiamato terrone in senso dispregiativo. Guarda, ci sono stati in passato qualche terrone che si è comportato male, però oggi ci comportiamo tutti bene, non c'è più quella cosa. Facciamo pace con il resto dell'Italia. Toni, tu con le tue canzoni dai anche modo alle nuove generazioni di conoscere qualche termine napoletano di qualche tempo fa, che forse non si usa più. Invece col sorriso riesci ancora a trasmetterlo. Ebbè, è molto brutta questa cosa, che il napoletano vada in disuso, cioè che ci siano dei termini. A volte i ragazzi mi chiedono, Toni, ma che significa quella cosa? Io gliela spiego, perché è un sacco di parole, ma è il destino di ogni lingua, quella di perdere parole per la strada. Poi magari se ne acquistano altri inglesi, ormai è uno slang tra... Noi parliamo metà italiano, metà inglese e metà napoletano. Meno male c'è rimasto quella punta di napoletano. Toni, ultimissima domanda. Sempre parlano di sorriso, che è un marchio di fabbrica del sud. Tu con il sorriso hai comunque portato allegria a tante generazioni. Poi il sorriso effettivamente fa anche risollevare un po' le sorti del sud Italia. Hai voglia? Vabbè, guarda che le sorti del sud Italia... Io mi aspettavo, io sono un ottimista di natura, mi aspettavo cose belle da parte del sud, ma ne parlo 30 anni fa. Cioè, non tanto il sud ce la farà, ma ora ce la stai facendo veramente. O io ci dobbiamo credere, ce la stiamo... Abbiamo preso uno scudetto, poi ci stanno dicendo più di ambranato. A parte il calcio, ma anche l'imprenditoria, stiamo andando forte, raga. Dobbiamo crederci. Crediamoci. Siamo bella gente. Grazie a noi.